Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, un aggiornamento veloce perché dopo i due video che ho preparato su Bitcoin Gold, il prossimo fork di Bitcoin ho ricevuto tantissime email perché ovviamente una delle domande più frequenti era Marco, quindi se io adesso ho i Bitcoin automaticamente riceverò la stessa quantità in valore o appunto in quantità di Bitcoin Gold allora ragazzi la prima risposta alla domanda è che riceverete la stessa quantità non in valore, quindi se Bitcoin il giorno del fork varrà, non so, 5.000 dollari non riceverete 5.000 dollari in equivalente di Bitcoin Gold, ma se avete un Bitcoin riceverete un Bitcoin Gold, quindi questa è la prima cosa da dire e poi voglio rispondere a tutte quelle domande che mi dicono, ma quindi qual è la strategia giusta da avere? quindi dovrei acquistare adesso Bitcoin, è il momento giusto per acquistare Bitcoin in modo tale da avere Bitcoin Gold subito dopo e voglio dirvi, come al solito non voglio darvi dei consigli finanziari, però voglio farvi riflettere su alcune questioni guardando soprattutto i grafici e guardando quel poco di passato che abbiamo a disposizione però adesso ragazzi torno tra pochissimo con la seconda parte del video e semplicemente sono qui in aeroporto, sono appena atterrato ad Amsterdam e devo andare di corsa a prendere il treno quindi ci vediamo tra pochissimo, un attimo solo c'è un problema con treni platform 3 sì, c'è stato un problema con i treni, non ho capito cosa, stanno dirottando tutto sulla piattaforma 3 quindi c'è il ritardo, infatti vedete che ci sono gli omini a chiusura platform 3, eccola qui quindi ragazzi che cosa sta succedendo sul mercato delle cripto? perché quello che vediamo è un aumento importante di bitcoin e invece una diminuzione delle altcoins quindi delle altre criptovalute soprattutto, non tutte a dire la verità, c'è Ripple che sta mostrando davvero davvero i muscoli del resto c'è una conferenza importante che riguarderà proprio questa criptovaluta però fondamentalmente c'è bitcoin che a fronte di nessuna notizia fondamentale di nessun tipo sta aumentando il suo valore e allora mi sono andato a vedere che cosa era successo in prossimità del fork di bitcoin cash quello che era successo è che c'è stato un acquisto c'è stata prima una flessione di bitcoin poi c'è stato un grosso acquisto proprio a ridosso del fork e secondo me quello che è successo appunto è che le persone hanno cominciato ad acquistare bitcoin per avere poi bitcoin cash bene quindi quello che potrebbe succedere di nuovo adesso con questo fork è di vedere nuovamente un e quello che sta succedendo secondo me il motivo per cui sto aumentando il valore di bitcoin ormai è passato i 4500 dollari che è una soglia insomma psicologica molto importante quello che sta succedendo è che le persone stanno acquistando bitcoin stanno in particolare togliendo le loro posizioni sulle altre criptovalute quelle minore a bassa capitalizzazione per metterle su bitcoin in modo tale da avere bitcoin cash fondamentalmente gratuitamente come già abbiamo detto e stanno facendo questo per ottenere gratuitamente la nuova criptovaluta subito dopo il fork quindi ragazzi questa potrebbe essere sicuramente una strategia però non vi dimenticate una cosa anzi due cose una che nessuno vi dà la certezza che quello che è successo con bitcoin cash succederà di nuovo con bitcoin e il fork di bitcoin gold parliamo di bitcoin gold quando parlo di fork quindi non è detto che succederà la stessa cosa e ricordatevi anche che cosa è successo poi a bitcoin cash bitcoin cash poco dopo l'inizio scoppiettante che aveva avuto il suo valore praticamente si è dimezzato e quindi è passato da quasi sfiorare i 1000 dollari a adesso mi sembra che stia addirittura sotto i 400 dollari quindi massima attenzione e un'altra cosa ragazzi ci sono dei dubbi io ho dei seri dubbi su li ho già espressi su bitcoin gold e la sua validità però prima di fare di pensare a qualsiasi strategia aspettate il video di stasera stanotte o domani mattina più plausibilmente perché voglio farvi riflettere su alcune questioni di bitcoin gold che proprio non mi convincono quindi ragazzi quello che sta succedendo adesso secondo me è semplicemente uno spostamento di fondi dalle altre criptovalute a bitcoin proprio al ridosso del fork e potrebbe questa essere una strategia non sappiamo ancora se sarà vincente lo scopriremo a breve io però adesso vado in hotel ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando aspettate il prossimo video su bitcoin gold prima di fare qualsiasi tipo di investimento su questa criptovaluta perché ho alcune cose da condividere con voi ciao ragazzi per questo video è tutto ci vediamo prestissimo corro in l'albergo perché di nuovo ricomincia a piovere ciao 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 e buon trading a tutti ovviamente